Bentornati tutti quanti nell'appuntamento periodico qui su F1 in generale, dove andiamo a analizzare tutti i weekend di gara, tutti i giorni del weekend di gara, ciò che succede in pista. Finalmente siamo arrivati al primo weekend di gara di Formula 1 in Italia, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna ad Imola, quindi siamo tutti quanti molto carichi e emozionati per questo weekend stupendo. Io vi ricordo comunque di seguirci qui e su tutti gli altri canali per rimanere sempre aggiornati, soprattutto in questo weekend che è importantissimo per Ferrari, che ha portato una macchina totalmente nuova, che ha fatto vedere delle grandi cose per ora nelle prime due sessioni di Prove Libere. Tantissime le novità in casa Ferrari dove sono andati a cambiare praticamente quasi tutto nella macchina. Le cose più importanti che riusciamo a vedere con occhio, quindi sopra la macchina e non sul fondo, sono sicuramente gli inlet delle prese d'aria sulle pance della monoposto, dove ci sono le tre manine. Albert Fabrica come sempre ci regala delle foto stupende. Nella parte inferiore il vecchio concetto delle pance interpretato da Ferrari, nella parte superiore quello nuovo, dove si è andato a restringere molto l'ingresso dell'aria diretta poi nei corpi radianti per andare a raffreddare tutta quanta la power unit, ma non solo perché, ma non solo perché è anche andato a rimuovere quello che sarebbe stato praticamente un S-duct, quindi un pass-through dell'aria tra l'anteriore e il posteriore per andare a aumentare la sezione che incalana l'aria sempre verso i radiatori. Nella parte posteriore idem sono stati andati a aprire delle fessure ben più grandi rispetto a quelle che c'erano prima per permettere meglio all'aria di uscire dal cofano motore. È stata cambiata anche la specifica dell'ala posteriore perché ora qui non si nota tanto bene, però prima la parte esterna dell'ala dove ci sono praticamente i piloni esterni era tondeggiante, adesso invece c'è stato fatto un taglio netto e questo dovrebbe comunque andare a migliorare tutto quanto l'aerodinamica dell'alettone posteriore. La cosa più importante è una cosa che non vediamo, ovvero il fondo della vettura che secondo Ferrari è stato stravolto e cambiato tutto quanto, non solamente la parte del marciapiede che vediamo benissimo occhio nudo, ma tutto il fondo. Ferrari non è l'unica con delle novità perché anche a Stone Martin ha portato tantissime novità, all'incirca 8 o 9, tutte quante che vanno a riguardare la performance della vettura. Qui vediamo uno dei più grandi e dei più visibili a occhio nudo che è il taglio e la forma degli elementi dell'ala anteriore, praticamente dei flap che la compongono, dove vediamo che ora invece di essere lineari vi è stato fatto un intaglio. Altro trattamento ha riguardato proprio la punta del muso dell'ala anteriore, dove ora c'è nata una fessura e si è angigantito anche quello che è il cucchiaio che troviamo sotto il musetto dell'ala anteriore. Una cosa molto interessante che mi piace far notare è il fatto che Ferrari, nonostante ok, abbia portato un upgrade all'ala posteriore, cambiando comunque la specifica e rendendola più efficiente, ma il carico aerodinamico che porta sull'ala posteriore è identico tra tutti quanti gli altri gran premi che si sono corsi fino a questo momento del campionato. Il che è una cosa molto singolare e fa pensare che comunque ci sia un grande lavoro sulla vettura e che questa vettura riesca a lavorare molto bene con un carico aerodinamico specifico. Come vediamo dal documento ufficiale della FIA, anche Red Bull ha portato delle novità, tutte cose minori che comunque dovrebbero andare a migliorare la condizione e l'efficienza della vettura, nonché comunque anche la performance. Ma come abbiamo potuto vedere in tutto l'arco del venerdì, già a partire dalle prime prove libere, Red Bull non si è mai trovata bene col setup della vettura. Verstappen ha da sempre lamentato come la vettura scivolase su tutte e quattro le ruote e non riuscisse comunque a farla lavorare nel modo che lui vorrebbe. Ha presentato tantissimo sottosterzo, non riusciva a far entrare bene la macchina in curva e a farla girare come voleva lui. Infatti abbiamo visto anche tantissimi errori, una cosa che non è da Verstappen, perché comunque l'anno scorso Verstappen ha fatto un errore, forse due a dir tanto, in tutta la stagione. Dopo prova libera 1 e prova libera 2 ne ha fatti tanti, quindi si vede che c'è proprio un problema di setup e anche di confidenza con questa macchina. Chi è andato molto bene sia nelle prime prove libere ma soprattutto nelle seconde prove libere è Ferrari, che per ora sta rispettando un po' le aspettative che abbiamo tutti quanti, già dal primo shakedown che c'è stato a Fiorano settimana scorsa, appunto con la vettura 2.0, con le evoluzioni che ci sono state fatte. I piloti hanno affermato che con la macchina si sentono molto confidenti, se la sentono molto loro riescono bene a male a fargli fare tutto ciò che vogliono. Non abbiamo visto grandi errori da parte dei due piloti della Rossa, ma abbiamo visto grandissimi tempi, sia sul giro secco, sia su quello che è il passo gara. Soprattutto nelle prove libere 2, perché durante le prime non è che ci sia stato un grande movimento e non è che siano stati fatti tantissimi long run, anche perché comunque la pista era molto sporca, viste le piogge del giorno precedente. Da qui possiamo già vedere quelli che sono stati i passi gare dei piloti con le vetture. Leclerc con la gomma gialla, Verstappen anche lui con la gomma gialla, c'è una differenza di tempi sul giro e di passo gara immensa, almeno fino a questa FP2. Notiamo benissimo come la linea rossa di Leclerc sia molto più in basso, quindi sta a significare che è molto più veloce rispetto a Verstappen, e neanche di poco perché vediamo come una media del tempo sul giro di Leclerc di 1,20 e 559 contro una media di Verstappen di 1,21 e 335. Quindi fino a questo punto ci sono otto decimi di vantaggio sul passo gara di Leclerc rispetto a Verstappen, che è una cosa esagerata. Non eravamo assolutamente abituati fino a questo punto del campionato a vedere una cosa del genere. Ovvio, è molto probabile che poi nella notte tra FP1 e FP3 Red Bull comunque riesca ad aggiustare il setup e comunque possano riportarsi sui livelli a cui eravamo abituati a vederli fino a questo momento. Da questo grafico possiamo benissimo vedere quelle che sono state le differenze di tempi sul giro sul passo gara tra i due piloti. Nel primo giro che Verstappen ha effettuato con la sua gomma gialla, nuova, è stato di 1,21,773, mentre Leclerc è stato di 1,28,69. Quindi iniziamo già a vedere una differenza anche abbastanza marcata, poi si ripropone in tutti quanti gli altri giri. Anche quando poi Leclerc è andata a mettere la gomma in temperatura ci sono state delle differenze abissali. Quarto giro di Verstappen con la gomma 1,21,4, quarto giro con la gomma Leclerc 1,20,0. E questo qua è stato anche il miglior giro che ha fatto durante il suo passo gara e anche rispetto al passo gara di tutti quanti. Quindi questo è stato il giro veloce di gara. Se andiamo a vedere il giro veloce di questo passo gara di Verstappen che è stato di 1,26 contro il giro veloce di Leclerc in questo passo gara che è stato di 1,20,0. Quindi ci sono la bellezza di 6 decimi di differenza possiamo andare a apprezzare meglio quelle che sono state le differenze dei due piloti. La prima cosa che vorrei far notare è la differenza di velocità di punta dove sì non è così marcata. Se vediamo nel main straight prima di arrivare alla staccata sono praticamente identici. Sale un pochino più velocemente. Questa potrebbe essere dovuto sì al DRS ma anche a delle mappature del librido differenti. Quindi non sono così tante importanti in questo momento. La cosa che è veramente importante è la differenza di velocità che viene portata in curva e soprattutto come frenano i due. Questo è il grafico della curva Villeneuve. Vediamo come Leclerc tiene una velocità sempre più alta di Verstappen. C'è un'uscita di curva differente ma durante la percorrenza di tutta quanta la curva Leclerc è molto più veloce di Verstappen. Veramente non di poco. Soprattutto qua che è la Tosa dove Verstappen ha una velocità minima di 97 km orari e Leclerc ha una velocità minima di 102 km orari. Quindi ci sono 9 km orari di differenza di percorrenza della Tosa tra i due piloti e è veramente veramente tantissimo. Infatti in corrispondenza di questo sia della Villeneuve che della Tosa è il punto dove Leclerc guadagna di più. Questo qui è il delta del tempo. È il punto dove Leclerc guadagna di più ed è molto molto interessante da vedere. E questa cosa si ripropone in tutte quante le curve. Ci sono delle differenze di velocità altissime ed è molto differente anche come i due piloti vanno a frenare. Verstappen frena molto prima. Qui siamo sulle acque minerali e vediamo come Verstappen frena prima. In ogni momento Verstappen frena prima e frena di più. Proprio come se la macchina non riuscisse a stare in strada. E non è un comportamento singolare per la Red Bull. Non è una cosa che gli succede molto spesso e non è una cosa che gli è quasi mai successa. Quindi sicuramente dovranno investigare e cercare di capire il motivo di questa cosa. Parlerei per ore di queste cose veramente perché sono interessantissime e c'è tantissimo da dire. A questo punto vorrei metterci dentro anche McLaren con Norris perché Norris ha usato la gomma gialla a differenza di Piastri che ha usato una gomma dura. Ed anche in questo caso Norris ha fatto un long run molto lungo. C'è un po' di degrado ma non è così alto. Ce lo saremmo aspettati ad Imola un degrado non così tanto alto. Ma comunque i tempi sono molto vicini tra loro. Verstappen e Norris non sono tanto lontani a livello di passo. Quindi chi rimane un po' indietro rimane sempre Verstappen. Questo invece è il grafico generale di tutti quanti i long run che sono stati fatti anche specificando la gomma e quanti giri sono stati fatti con quella gomma. Questa lineettina in rosso è la media dei passi gara di Leclerc mentre la prima è Piastri che con gomma bianca è stato. Piastri è stato uno dei migliori se non comunque il migliore non di tantissimo per quanto riguarda il passo gara. Chi è tanto in difficoltà come vediamo sempre è Verstappen che sì è stato molto costante e lo vediamo dal fatto che la stanghetta è molto schiacciata ma comunque è molto lento molto lento anche rispetto al suo compagno di squadra Perez. Anche in simulazione di qualifica c'è stata una bellissima differenza tra Leclerc e Verstappen. Vediamo come c'è stata una differenza di 5 decimi che non è assolutamente poco. Non ci resta altro che aspettare la qualifica di domani che sicuramente sarà molto interessante molto molto interessante non vedo l'ora di vederla e soprattutto io non vedo l'ora di arrivare alla gara perché con questi passi gara qua con una Ferrari così in forma almeno apparentemente in questo venerdì sono veramente veramente contento di vedere una bellissima gara non vedo l'ora e spero che sia una bellissima gara. Io vi ricordo che ci vediamo domani dopo le qualifiche sempre per l'analisi qui su F1 in generale quindi iscrivetevi per non perdervi nessun aggiornamento. Grazie ancora per essere stati qua ci risentiamo domani.